Siamo qui con Simone Bellam, mi fai un commento sulla partita? Beh, siamo stati bravi a recuperare la fine, principalmente quello è il mio pensiero. Comunque abbiamo retto tutta la partita, siamo andati anche avanti di 15 quasi, però alla fine grazie a Divo non ce l'ha risolta con quella palla rubata e con quei due tiri liberi, quindi bisogna ringraziare lui in questo caso. Mi dici il tuo pensiero dopo tutta la preparazione e a una settimana dall'inizio del campionato? Mi piace, mi piace. Sono contento del gruppo che si è creato, sono contento di come lavoriamo in palestra, ultimamente ci stiamo allenando proprio bene, ce l'ha detto anche il coach prima, quindi sono soddisfatto. Quindi ho una sensazione positiva per quest'anno.